Musica Ciao a tutti ragazzi sono Merlockraftologi Siamo qui nel quattro episodio del mio Let's Play M'ho dato Dall'ultimo episodio Che è passato tipo 10 minuti per me Dall'ultimo episodio a questo però Silence, non lo sa nessuno Abbiamo avuto un altro aggiornamento del modpack Perché l'aggiornamento 1.0.4 Che sarebbe stato la 1.0 Però hanno fatto un po' di casino con le versioni Però l'FTP è sempre figa Era bagatissimo E soprattutto con la Sto avendo problemissimi di frame rate al momento O forse è solo una mia immaginazione L'aggiornamento era tipo bagatissimo E soprattutto con la CISL Che è la mod che abbiamo usato per costruire praticamente tutta la nostra casa Perché questa è CISL, questa è CISL, questa è CISL Che vedete che adesso tra il resto si chiama CISL2 Quindi anche il nostro CISL Che è nel nostro knapsack Dovrebbe avere una texture diversa Boom Vedete che è completamente diverso Però è molto più figo Perché ci stanno più cose E appunto Il mod perché è stato aggiornato E soprattutto la CISL era bagatissima E c'era una grande possibilità Che questi blocchi scomparissero Di giù E non lo sapevo neanche Io non l'avrei aggiornato assolutamente Se lo avessi saputo Però l'ho aggiornato e non è successo niente Quindi siamo stati tipo mega fortunati E adesso questo aggiornamento ha risolto tutto Mi sono spaventato tantissimo Perché appena ho loggato Con l'aggiornamento nuovo Ero tipo qui E la casa era caricata per metà E qua vedevo fuori vuoto E per fortuna dovevano ancora caricarsi Cianchi e basta Non sapete Non avete idea dello spavento Ad ogni modo Piani per oggi Allora la prima cosa che voglio fare Proprio super veloce È una cosa che ci aiuterà Con i nostri materiali Ci basterà una redstone george Poi ci servirà della stone E fatemi guardare la recipe qui Della redstone ancora Quindi Uno, due, tre, quattro Ebbene sì Stiamo facendo un redstone clock bitches Questo è della open block No, dell'extra utilities E praticamente quando io l'ho piatto qua Darà un impulso di redstone continuo Tipo ogni secondo credo E la cosa bella è che Se lo metto qui sopra Continuò a dare un impulso Al nostro Si possono fare i lingotti di ossidiana Si possono fare i lingotti di ossidiana La mia vita è completa E darà un impulso continuo E quindi noi potremo svuotare Tutto quel casino Che c'è nella nostra smelteri E trasformarle ai lingotti Della Tinker's Construct Perché i lingotti di ossidiana Ragazzi GG Servono a qualcosa Obsidian brick Col chisel Interessante Sì vabbè ok Tool material Vedete che anche la Tinker's Construct è stata aggiornata Vabbè Tutte belle cose Ferro 1,2,3,4,5 Legno Chest 2 Facciamo un hop super quick Adesso vi faccio vedere Cos'è il mio piano full buff Hop 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 Scendiamo di sotto E Se io faccio Così Io intanto scendo E poi Spacco questo cos'è O si Di anno non c'è ne abbastanza E Capita Se io facessi Così 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 Non così Ma così Non così Io voglio questo hop Perché guardi In fuori Quindi Io e gli hop Abbiamo una storia complicata Così No Non ti voglio così Oh Jesus Posso farcela Questo blocco Lo voglio qui Così Fucchia E Poi possiamo tornare qui sotto Possiamo tappare tutto questo buco Mi sono imprigi E tu là Non è il design più bello al mondo Però funziona E quindi Ehi Fucchia E Allora prendiamo questo E Sempre contando che abbiamo abbastanza materiali Per tutto Porca troia Allora sto sporcando un sacco di materiali adesso Quindi non Riprovateci Però se io adesso facessi così E poi così Vediamo quante materiali c'è Cobalto Bam Ok adesso questa cesta Vabbè farci automaticamente i lingotti E noi Tanto che faremo le nostre altre cose Suoteremo queste cose E Guarded Fallen Knight Tried to fill in lava E' un mob Moboso Solo che ha una name tag E quindi si legge anche lì Come se fosse un player Perché sono in single player Quindi Aiii Queste mod Queste mod Ad ogni modo piani per oggi Assolutamente Entrare nelle mod Tecniche Quindi Fare un po' di correnta Eccetera E la prima cosa che vogliamo E' una sua fonte di corrente E quindi Io ho scelto per ora di andare a lava Perché la lava è lava E voglio utilizzare una Ender Thermic Pump Quindi un diamante Eye of Ender Allora direi che intanto andiamo per la pompa normale Perché questa è troppo complicata E poi eventualmente cambieremo A pompa A lava Quindi Questo l'avete vista Craftare un milione di volte Credo Quindi penso che Quindi penso che Questo va qui e questo va qui e questo va qui e questo va qui Abbiamo la nostra Mining Well Poi ci serviranno solo 8 vetri Quindi andiamo a cuocerli nella frutnaccia Frutnaccia Posso la parte Ok ragazzi All fixed E credo che Quel fuocio Sia spawnato qui giù Ma neanche qui non ci sono posti dove poterà spawnare Cioè deve essere spawnato tipo Qui E deve aver salito le scale Ma Ci sono un creeper di quelli proprio bastardi Se voglio vedere Se da qua riesce a salire da là Dovremmo essere al sicuro Al momento Sperando Forse ha rotto anche un pezzo di glue No no C'è ancora E Qui siamo quasi a posto Dovrebbe esserci Proprio Giusto un petto di cose Che Sì penso che possiamo giusto buttarle via Perché Non dovrebbero poter Formare un lingotto Right Sì è proprio È pochissimo Dovrei creare una nugget cast Per questi eccessi All the smeltery is cleaned Ragazzi La nostra smeltery è pulita Qui con la scusa ho anche riorganizzato un po' la cesta Questo va qui GGWP E possiamo cancellare Il nostro Y point Remove E possiamo andare a vedere se il nostro vetro è cotto Spero Di sì Che per il momento Sia cotto Perfect Sbam 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 Le le sono ricordate G2G 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 No insomma obsidian Super pro tip quando scopate l'obsidian Mettetevi in morph da Doh non sono in morph Non sono in morph Ma porca vacca Che fail Pensavo di essere in morph da blade E quindi essere immune alla lava Quindi sono andato sciallo La nostra roba La nostra roba Oh cazzo Ah no si è formata la tomba in teoria Ok 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 Dai che non ho armi Vai via dalle valle E adesso sono in morph di blades Quindi Posso andare nella lava Questo è un creeper plant O forse un creeper E andiamo qui Qui no qui è morto quel creeper prima E voilà La nostra tomba c'è La nostra tomba c'è Perché qui vedete che c'è questa specie di Rigonfiamento Nella lava Quindi adesso cercherò con questa cobblestone Di creare una piccola zona sicura E di buttare questo scheletro nella lava Perché c'è arco le palle Ok Ok ragazzi ci sono Ci sono Blade mode the best Perché basta andare qui sotto Ripiazzare il cobblestone proprio a caso Così Però Penso di Essere riuscito a murare Ho dovuto scavare anche qui sotto E metterla qui sotto E non avevo un piccone Me l'avevo dimenticato Quindi ci ho messo tipo un secolo E Penso che lo taglierò Però Archive and get diamonds Che cazzo stai dicendo Va bene Vabbè comunque mettiamoci a posto Anche perché non c'erano diamanti Quindi Mettiamoci a posto Ok Ora Siamo in morph the blades Controlliamo cinquemila volte Sì Quindi possiamo prendere la fottuta ossidiana Quindi Fottetevi tutti quanti Quanto ne ho presa? Dieci Forse basta Non lo so Ok ragazzi Già che c'erano Ne ho presa proprio giusto Già che c'erano Ho presa Tipo Dieci miliardi E adesso siamo qui Tornati a casus Possiamo creare Adesso scusate se Mi sento C'è Se sono un po' tipo Se dico cose un po' strambe Rispetto a quello che ho detto L'altra volta Avevo due diamanti io Ecco cos'è Perché mi ha dato l'archivement Diamonds Ho già preso due diamanti Quindi dovrebbe essere qui dentro Risolto il mistero Fucchiera Eccoli infatti C'è anche dell'ossidiana Strano Rubri Ardite Allora Tredici ardite ho anche qui dentro Quindi Diamanti me li tengo Perché mi servono Rubini li mettiamo qui L'uranio Perché qui non lo so Gold Quarzo Perfect Qui mettiamo l'ardite E basta E l'uranio E Let's build ourselves An enchanting table Non abbiamo libri credo Merda Ladder Ladder Uno Puh Carta No ma Abbiamo carta Sugar cane No Sugar cane Pucu Sugar cane Gimme all the sugar cane GG E direi che per risparmiare la ladder Che abbiamo Che potrebbe servirci Possiamo craftare I libri con la tinker Perché la tinker sconsor Serve anche a craftare i libri È una moda talmente epica Che serve anche per craftare i libri Rendiamoci con GG Allora Cerchiamo di essere un po' più allegri Perché ragazzi Che sto facendo diventare Questo episodio Un mortuario Allora Super quick Facciamo Una stringa Una stringa Una blank pattern Che abbiamo qui Qui Svegliato il tavolo Non Ma Ce la posso fare Una blank pattern Una stringa Bam Paper Tre carte Tre paper E due blank pattern Ho dimenticato una GG Quindi Due blank pattern Libro Book Libro Bam Enchanting table Bam Enchanting table Con del fer Con dell'oro Che non ho cotto Merda Quindi prendiamo Giusto un poco E andiamo a duplicarlo Perché duplicazione Is the way Ok ragazzi Ho appena imparato una cosa nuova L'oro Crea le cast Cioè Ho appena fatto 5 blank cast Perché ho messo dentro oro E si è fatto le cast Quindi abbiamo 5 blank cast Che sono Pressoché inutili Se non per Se non per creare le Le I drawbridge Quindi Ci serve altro oro E andiamo a cuocere dell'altro oro Cuociamone Un bel poco Why not There we go Oro 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 Quindi Poi lo facciamo così Così E un ender pearl Bam Junk loader E quindi possiamo andare nel nether Quindi prima di tutto Che non si sa mai che con la lava Ho già avuto brutte esperienze E andiamo nel nether Sbam Adesso non so perché mi staranno tutti gli arcismen della vanilla adesso Tipo adesso è nato Winnie to go deep Perché quando si va nel nether Ma nel nether ci sono già andato Boh Vabbè Allora la nostra pompetta Direi che la possiamo costruire qui Che c'è tipo un lago di lava giga enorme Quindi bam 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 Sbavam Chunk loader No non va qui Not here Scopriamo la lava di sicuro Pumpa Questo è il setup standard Che avete visto miliardi di volte Penso ormai Che non posso Piazzarli Qui mi lascia Qui anche Qui anche E qui anche Perché quella non mi lasciava Boh ma io questo non lo voglio qui Lo voglio qui Ok Ah devo shiftare Poi voglio una leva qui Una leva qui Chunk loader Chunk loader Dobbiamo essere sicuri che tutto il lago di lava sia caricato Almeno per gran parte Quindi direi che così va bene E ok Perfetto Heart lasers E poi La ender tank Per la lava Boom Wow GGs E qui appena Appena Raggiungerà il fondo La nostra cosa Facciamogli un po' di pulizia Guardate che roba Siamo sotto la lava E scriviamo come dei Porci Allora La nostra pompa È scesa qui A occhio Croce Quindi dobbiamo pulirgli un po' di spazio Per pompare più lava Ok ragazzi Qui è tipo in un posto Troppo vicino Alla superficie Quindi andiamo a metterla in mezzo Quindi Vediamo di riprendere tutto Senza buttare via Le cose alla leva La presa sì Non c'ho voglia di tornare a craftarne un'altra Principalmente Bisogna stare attento con questo piccone Perché Rompe istantaneamente Allora Andiamo In un posto molto in mezzo Quindi per esempio qua Vediamo quanto è profondo qui Direi che è perfetto Sturiamo in su Andiamo un po' in qui E qui metteremo la nostra pompa Che pompa Covindi 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 Così 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 Togliamo questo La pompa La mettiamo Qua Qua Sto pensando perché Mi sono un attimino addormentato Perché è sera tardi Mentre registro questo episodio Quindi scusate se sono anche un attimo Eeeh Rincoglionito Quindi Sì Colpa mia Ender tank Boom Eeeh Chunk loader Boom 81 chunks E adesso tu dovresti pompare Vero Forse Magari Pomba Perché non pompi Stai pompando vero? Sì 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 Sto probabilmente svuotando il lago A 10 miliardi diciamo di distanza Quindi facciamo Così Nice Abbiamo un po' di lava Che Sperando si riempirà Continuamente Allora vediamo se adesso Trovare il portale Che è lì Vediamo se si è riempita Sì vedete che si sta riempiando Anche ora mentre ce l'abbiamo in mano Qui c'è del cobalt Che ho visto Bastardo Dammi il cobalt Super utile Ok Back in the overworld We go Ok ragazzi Vediamo come trasformare Questa lava In correnta Mi serve Intanto ne facciamo uno Poi ne faremo molti altri Un lava generator Useremo quelli D'extra utilities Perché mi piacciono le più Quindi Semplicemente oro Una fornace E Un po' di ferro Soprattutto è il blocco di ferro Che sto cuocendo Un bel po' di ferro sotto Nella fornace Per Poter Creare più Generatori Quindi Sbam bam Lava power Andremo a mettere La nostra generazione Di corrente Penso qui Perché avremo I nostri macchinari Lungo questo Muro qui Credo Lungo questo muro qui Andremo a tutti Di avere i nostri macchinari Di base Quindi forse Non andremo a avere La nostra generazione Di corrente Qui Bensì qui Cos'è questo Lead Lead Perfetto Sto facendo anche Del lead Perché so già Che mi servirà assolutamente 44 lingotte di ferro Perfetto E Boom Mettiamo La tannica Qui E Facciamo così E tu staresti Generando corrente Per me Nice Nice Very nice Poi prendiamo Del lead Se non sbaglio 4 Per creare una Lensone Energy Cell E mi serve una frame Quindi così Easy Ok Perfetto Oh ragazzi Evoluzione Evoluzione Quindi io crafterò Un bel po' di cosette E Will be back Perché Scusatemi Sto proprio morendo Tipo di Di mal di gola Però Yeah 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 Quindi Del vetro Del vetro Del vetro Del vetro Sabbia Mi servirà un bel po' di vetro Quindi Ne cuoccio Un 24 9 9 9 Perfect Un Tra pezzi di carbone Ok GGs Per il resto ragazzi Piccola nota Ho preso un altro libro Tra ne avevamo tipo Una ventina E prendiamo due libri Di questo E uno lo trasformiamo In Tinker's Weapon Che è un libro Che ci servirà Nel prossimo episodio Ne avevamo una ventina Qui e non le avevo vissi Quindi GGs E questo libro È Della Tinker's Construct Sempre E ci svelerà tutti I segreti Degli archi Della Tinker's Construct E voglio fare Un arco super pro Nel prossimo episodio E non avete idea Di quanto pro sarà Quell'arco E in più Voglio prendere questo E dividerlo ancora Insomma Sdoppiarlo un'altra volta Per ottenere L'ultimo libro Della Tinker Che è Diary of a Tinker Che è inutile Completamente Però giusto per avere la serie E per fare questa biblioteca Un po' più figa Quindi Ma ma vedete che Diary of a Tinker Non fa praticamente niente Spiega Semplicemente cosa fa Un tipo della Tinker's Construct A caso GG Ok vediamo A che punto è il nostro vetro Vorrebbe aver finito Yes 8 16 24 Andiamo qui Creatiamo un blocco di redstone Boom 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 Facciamo così E facciamo così Redstone Energy Frame Poi mi servirà Un reception Conductance Qualcun di quello Con l'Electrum Quindi ci servirà Un pezzo di oro E un pezzo di silver Gold e silver Boom 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 Nice 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 Stacchiamo per un momento questo Mettiamo gold e silver Per creare un po' di Electrum Qui dentro Intanto abbiamo un bel po' di Iron Un bel po' di Lead E anche un bel po' di oro Che prenderò Ecc Prima cosa che si fa Con questo nuovo ferro Che abbiamo E' un blocco E creiamo un altro Generatore Perché i generatori Sono sempre utili Guardate quanta corrente Abbiamo già 100.000 RF Che è pochissima Però CG Ce l'abbiamo intanto E così adesso Anche questo Sto generando corrente Questo è già pieno E da proprio questo Sto creando Questo Ledstone Energy Cell Quindi il nostro Electrum È pronto Yes Vi abbiamo dell'Electrum Quindi possiamo rimettere Questo A fare le sue cose Ci serve un solo lingotto Di Electrum Grazie E torniamo sopra Boom 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 Don don and don Super progressi Super progressi Boom boom E abbiamo questo Abbiamo questo 3 red copper Se non sbaglio Probabilmente Mi ricordo Il crafting memoria E abbiamo una Ledstone Energy Cell Frame Se dopo Potremmo prendere 3 pezzi di ferro 3 e un pezzo di ferro Using Eccolo Potremmo creare Del Invar E ampliare Questa Energy Cell Per far contenere Ancora più energia Questa È più o meno Un buffer È una cosa Che tiene tantissimo Energia Per evitare Che queste cose Si riempiano E quindi Non producono Più energia Abbiamo già il ferro Quindi Bam boom Ok abbiamo Altro ferro GG GG GGG Intanto la metterò qua E vedete che questa cosa Tiene 400.000 Redstone Flux Poi Basterà che la tolgo Allora Mi serve Abbiamo un Tin Ingot Spero di sì No Ovviamente Quindi prendiamo Della Tin E facciamo anche Della Tin Perfetto E poi abbiamo Del ferro Volevo creare Dei Lead Stone Flux Duct Quindi Perché abbiamo La Thermal Dynamics Dall'ultimo aggiornamento Ragazzi Che è una mod Stupenda Sono i tubi Della Thermal Expansion Quindi Forse ho sbagliato Sono così Lead Redstone Ah Ok Quindi Vai Lead qui La Redstone Qui Che casino Socio Perché c'è la mia Borsetta Lead qui E qui E vetro Qui in mezzo Leadstone Flux Questi sono Trasporta Cavi Che trasportano Corrente Sono i primi Cavi Però Adesso Bastano E mettiamo Questa Sei che può Importare Energia da qui E da qui Importare Quindi blu Boom Boom Wow GGs E poi Dopodiché Abbiamo il nostro Ferros In varsin Sbam E fammi vedere Con del Hard No aspetta Noi possiamo utilizzare Guardate 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 Stiamo arrivando così vicini all'obiettivo di oggi Poi possiamo chiudere l'episodio In pace E amen Se noi creiamo Un'altra Leadstone Frame Solo il frame Quindi un altro di questi Così Così E così Li avrò divertiti sicuramente Eh Esattamente Boom Se noi creiamo un'altra frame Possiamo Aggiungere Un modifier Al nostro Strumento Qui Quindi con un diamante E un blocco d'oro Ricordate Si può aggiungere Un modificatore Sui nostri strumenti Insomma uno slot Per altri Modifier Quindi se noi adesso Prendiamo il martello Per esempio E facciamo così E così Possiamo aggiungere Un altro modifier Vedete Modifier Se aggiungiamo questa No Non fa niente Perfetto GG E se non sbaglio In questo libro Cosa ho fatto? Ok Vole cliccare Il tasto svegliato Però in questo libro C'è scritto Che noi possiamo Ottenere il modifier Del Energia Energia Vediamo se riesco A trovarlo Ah Con un Ah Hmm Ci serve un Hardened Flux Capacitor Quindi questo qui Quindi serve un Ledzone Flux Capacitor Invar Redzone E un Ledzone Flux Capacitor È Led Copper Sulfur Sulfur Come lo prendiamo noi Il sulfur? Ce l'abbiamo Del sulfur Hmm Credo che si trovi Nel nether Perché in un momento Il resto questa cosa È già piena ragazzi Quindi E abbiamo Del tin Ho detto di no Vero? Sì ho detto di no Quindi cociamo Del tin Nel nether Ok ragazzi Guardate il super tricks Qui ci sono Delle sulfur cloud Che sono trovate Solo nel nether Se noi le prendiamo Il martello non funziona Perfetto Così Due per due Diventa sulfur Ok perfetto Quindi prendiamo Le sulfur cloud Boom 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 Facciamo così E diventa sulfur Nice Allora io spaccherò Ci giù Tutte queste sulfur cloud E in più c'è Dell'altro cobalt Che io prendo sempre Perché non si sa mai Che possa servire in futuro Spoiler Spoiler Perfetto Poi nel frattempo Prendiamo la nostra tin E sempre che c'è un enderman A rompere le scatole Il sopra È anche una buona cosa Perché ci servono Un sacco di enderpearl Le enderpearl Sono sempre una buona cosa Da avere Con questo tin Possiamo crearci Una crescent hammer Lo strumento definitivo Proprio io senza questa Non vivo Sure it's a french But N2 is a hammer You'll need it to be one Pitch please E possiamo togliere la nostra cosa Tenendo la corrente che c'è Nel suo interno Possiamo prendere il nostro Invar Che abbiamo qui dentro Se non sbaglio Yes 6 Invar Se ne servirà di più assolutamente Quindi vado a farmi un po' di più Però intanto prendiamo questo 6 Invar E Non voglio chiudere l'episodio Sarà un episodio un po' più lungo Ragazzi del solito Spero che Non vi dispiaccia Anche se non penso E 1 2 3 GG Quindi fase 1 Ampliare la nostra redzone energy sale Con del Invar Bam Sbam Non questa Cell frame Esiste Non questa Non il nostro frame Che è inutile Questo povero frame Anzi probabilmente butteremo via Ma la nostra Questa cell Così adesso può contenere Mi sembra 2 mil Milione 1 milione Credo 2 200 2 milioni Credo siano 2 milioni Comunque un sacco E poi Il nostro Invar si è sciolto Sì abbiamo dell'Invar Quindi bam Redzone No 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 Redzone clock qui Invar per noi Ne basta un altro pezzo per il momento Per dimostrare la cosa Ok E andiamo a craftare L'ultima cosa dell'episodio E poi chiudiamo l'episodio Focchia Allora Quindi Sì Ci serve Un Hardened Lead Capacitor Quindi Perfetto Non abbiamo nulla Per farlo Un lingotto di copper Due lingotti di lead Sulfur E tre redstone Non funziona Non dimmi che questo Sulfur Non si può utilizzare Oh no Ehm Hm Hm Ah no no Non è che non si può Utilizzare Sì non si può utilizzare Uffi C'è il sulfur ore Però Credo Quindi Ci serve Il sulfur Del nether Quindi Dovevo andare proprio a cercare Il sulfur del nether Piccola correzione Non si trova nel nether Ma nell'overworld In caverna Quindi Vado a fare un po' di ma I see Di sulfur Ne da anche tantissimo GG Tipo Siamo ricchi di sulfur GG Ancora ce n'è Il resto ho trovato anche Scavando in un dropper Questa cosa Tipo Lost map E se io clicco Mi dice Travel 843 blocchi Sud est Io vado 843 blocchi Sud est Sud est In questa direzione qua 843 blocchi GG Ok ragazzi Non ho trovato dove la lost map Mi conduca Ma Perché voglio concludere Questo episodio Proprio super fast And super furious Quindi abbiamo Altri 17 pezzi di invar Andiamo a capitare I nostri Cosi Insomma I nostri Questi Bam Però ne voglio creare tre Quindi facciamo così 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 Poi prendiamo Il nostro sulfur Quello giusto Che è probabilmente Qui dentro E eccolo 59 Non me ne servirà mai Così tanto 1 2 3 Abbiamo tre flux capacitor E poi per farli diventare Hardened Hardened Boom Ci servirà Tin Invar Allora Bam Ci servirà Questo Tin Quindi Dove Avercela Forse Qui sotto Please Fa che io ce l'abbia qui sotto Perché non voglio di cuocerla C'è della tin C'è della tin Nice C'è della tin Quindi Tin Quached 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Yes Hardened Beach C'è qui Dobbiamo prendere gli altri E fare così Quindi Così E così Poi prendiamo altri due blocchi di ferro E altri Due diamonds In the sky E Andiamo qui Non qui Ma qui E Aggiungiamo un altro modifier Alla Nostra Swarda E al nostro picket E poi mettiamo Questo sul nostro piccone Questo sulla nostra spada Bim 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 E questo sul nostro hammer Nice E adesso Vedete che sono Soprattutto il piccone È proprio giù di durabilità Se io Oh non posso caricarlo Perché non ho ancora Un energetic infuser Quindi Vediamo di craftarlo proprio super fast Energetic infuser 2 Machine Ok Lo crafterò super veloce off camera E torno quando l'ho fatto Tanto È solo crafting Penso che non vi perdiate nulla Mi serve del silver Uno di questi Un redstone reception coil Due redstone transmission coil Sbam bam bam Che vanno qui 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 Questo qui La redstone frame Che abbiamo cacciato prima per sbaglio Quindi gg E due copper gear Quindi prendiamo del copper Che dovremmo avere già qui Quattro Me ne servono altri quattro Ma dovrebbero essere al piano di sotto Quindi Sbam Sbam Uno Copper gear 2 Let's go to the copper gear 2 Copper gear 2 E dov'è Merdaccia mi manca un copper Facciamo del copper Oddio Finirà Poi questo episodio ragazzi Finirà Ve lo prometto Ve lo prometto E un copper Poi off camera Concevo tutti i miei materiali Utilizzando la smeltery Così riusciremo a tipo A avere un sacco di materiali Quindi un copper E Sbam Copper Uno 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 Ringotto Copper 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 E voilà Super Super fast Super fast Super fast Super running E facciamo un copper gear Così E così Boom Copper gear Energetic infuser Super speed Vediamo se riesco a mettermelo qui Poi andiamo qui sotto Lo mettiamo per intanto qui Ma E' un setup molto provvisorio Ma proprio What the fuck Ok le configurazioni sono un poco sballate Però E' la faithful Probabilmente E' la texture pack Da ogni modo Se noi mettiamo il nostro piccone qui dentro Ho ho GG Verrà ricaricato E possiamo fare la stessa cosa Con la nostra spada E con il nostro artello Una pena Avrà finito di caricarsi E Il nostro obiettivo di oggi E' completato Quindi Nel frattempo Mentre off camera Io prenderò due chest Adesso vi faccio vedere Le furbate di Merlot Io prendo due chest Facciamo così Una la mettiamo Copper Un'altra No Quindi Chest Copper Andiamo qui sotto Facciamo così Andiamo se riesco a Sì Perfetto Poi facciamo così E prendiamo tutti i nostri materiali Crezi E li mettiamo lì dentro Per farli diventare Non crezi Insomma per farli diventare lingotti Quindi andiamo Prendiamo tutto il nostro oro Tutto il nostro lead Copper tin Non ci sto più con l'inventario GG E andiamo E tutti qui dentro Spam Non la cobblestone Grazie Spam Bam 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 Quindi per intanto Ci sarà solo oro Poi Poi però Ci faranno tantissime altre cose Io lo lascerò qui tutta la notte Visto che qua è sera Come abbiamo già detto prima E domani mattina Mi sveglierò con tutti i materiali Già processati Facciamo che l'ardite Perché no Fairclose Aluminum E shiny Questi non si possono processare Attraverso la smeltery Però li processerono in qualche altro modo Quindi Per questo episodio È tutto Un super pro tip State attenti Quando facete delle cose così Come sto facendo io con la smeltery Di non mettere per esempio Iron e ferrous O gold e silver Come in questo caso Vicini Perché andranno a formarsi Gli alloy O copper e aluminum Andranno a formarsi I materiali composti Tipo l'electrum Quella cosa lì Quindi state attenti Quindi Per questo episodio È tutto Io vi ringrazio per la visione Vi ringrazio Sì vi ringrazio per la visione Prima dei prossimi video Che caricherò Guardate La quantità di oro Indescrivibile Guardate 187 191 195 129 200 200 lingotti di ferro Bombambam 208 210 Oh Come hai fatto ad arrivare qui Cutlass 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 la spada Vaffanculo Allora Quindi io appunto Mi metterò qua tutta la notte E lascerò I miei strumenti a ricaricare Mi metterò Qui così Nell'angolino Proprio Super chiuso Perché come avete visto Ci sono dei mob Che arrivano da non so dove Quindi vabbè Facciamo così Quindi Per questo episodio è tutto Io vi ringrazio per la visione Perché vi mando i prossimi video Che caricherò E ciao ragazzi